buongiorno benvenuti questa rassegna di oggi 23 marzo del 2019 in un paese normale oggi la cosa che più ricorderemo è la nascita del fascismo sto scherzando non voglio fare la fine di tagliani ma la nascita del fascismo è venuto a piazza sansepolcro esattamente cento anni fa e che cos'era quel fascismo che cos'era quel mussolini che cos'era quella storia d'italia cos'erano quelle rivendicazioni che si volevano avere e soprattutto quel primo fascismo che era completamente diverso dal fascismo che poi fu cioè il fascismo diciamo che aiutava e pensava alcuni grandi imprenditori alcuni agrari di tirarli fuori dalle secche della violenza socialista quello era un fascismo ancora antipapale quasi socialista antimonarchico e oggi in realtà i giornali lo ricordano a modo loro il Corriere della Sera con un lungo pezzo di Sergio Romano molto interessante secondo me anche se non tutti i miei amici lo condividono il pezzo di Scurati vedremo tra poco sul sito nicolaporro.it che cosa ne pensa Marco Gervasoni uno storico a Hug Gianni Giorgio Tocchi che vedo ora collegarsi ma il pezzo più bello oggi lo fa decisamente Alessandro Gnocchi sempre su cento anni del fascismo perché ricorda che tagliani è stato come possiamo dire sostanzialmente flagellato per quello che ha detto sull'inizio del fascismo e Marco Gervasoni che oggi pomeriggio vedrete sul sito nicolaporro.it si è dimesso dalla società italiana per lo studio della storia contemporanea semplicemente perché dice non è possibile che siate sempre solo così ideologici cioè alla fine il fascismo come ricorda anche Scurati oggi sul Repubblica è diventato una specie di tabù per il quale a Piazza Sansepolcro ad esempio non c'è neanche una targhetta dicendo che lì si riunirono quei pochi quei quattro gatti che dietro vito al movimento fascista ma su questo ne parleremo diciamo in separata sede sul nostro sito invece la cosa che oggi i giornali trattano con maggiore attenzione è la visita dei Xi in Italia insomma il pranzo con 165 persone il modo in cui si è vestito la moglie un soprano che va alla galleria Colonna che è una reggia sostanzialmente che è una cosa stupenda che c'è Roma le strade pulite improvvisamente perché arrivano i cinesi non i marziani e poi ancora che cosa si è mangiato cioè alla fine il rapporto tra gli stati e anche questa diciamo questa diplomazia e questo garbo e questi pranzi al Quirinale che finalmente servono a qualcosa i bocelli che canta e a me queste robe piacciono ve lo dico subito le trovo forse l'unica piccola grandezza che rimane della grande Italia di un tempo che era un'Italia forse neanche nazionale detto questo Nordio oggi sul messaggero coglie uno degli aspetti fondamentali della visita dei cinesi in Italia che atterrano in Italia per poi andare in Europa e cioè che rusicano che gli dà fastidio da morire che siano arrivati nella capitale e la capitale è Roma non è Parigi non è Francoforte non è Berlino non è Londra arrivano a Roma e questo per noi in realtà indipendentemente dai diritti civili da Mattarella dagli accordi dalla via della seta eccetera è una roba che forse qualche soddisfazione ci dovrebbe dare poi io i giornali oggi sono molto critici dalla Chirico che dice beh insomma siamo veramente dei pazzi ad accorderlo in questa maniera poi alla fine quando si va a stringere sono 29 accordi commerciali valgono 5 miliardi ci ne sono alcuni molto interessanti come quelli della Snam che è una grande multinazione italiana che grazie alla Cina potrà diventare più grande gli diamo forse qualche cosa di troppo con i porti può darsi vedremo ma il punto che io sullo quale rifletto è che se non l'avessimo fatto noi l'avrebbero fatto i francesi adesso non si può ragionare così ma quando sento dire Macron che bisogna avere un più maggiore coordinamento europeo per l'ingresso dei cinesi in Europa beh penso che è lo stessa Francia che ha fatto l'intervento in Libia è lo stesso Macron che non chiude l'accordo con Fincantieri e questo lo fece ben prima dell'arrivo di Salvini di Buongiorno a Paolo ben prima dell'arrivo di Salvini e della sua pattuglia è lo stesso Macron che ha fatto l'accordo di acquisgrana non quello di Carlo Magno quello dopo cioè quello fatto con i tedeschi per governare l'Europa è lo stesso Macron che dice che ci vuole maggiore coordinamento europeo beh insomma quindi non mi farei dire da loro che ci vuole maggiore coordinamento europeo anche se ovviamente l'Europa solo unita può combattere ad armi pari contro il grande gigante cinese su questo direi che c'è poco d'altro cioè ci sarebbe molto da dire ma si vedrà nelle prossime settimane su Rami il ragazzo che è stato già definito eroe perché lo è stato perché col telefono ha chiamato il 112 che poi ha salvato i 50 ragazzi nell'autobus a parte tutte le battute a parte l'incredibile pezzo di Gramellini per cui si dice scandalizzato del fatto che non abbia la cittadinanza italiana questo bambino e che la cittadinanza si deve conquistare con i premi e dice questa è una cosa scandalosa invece tutti devono essere cittadini italiani io invece ancora sono uno di quelli che pensa che in Italia funziona esattamente bene quello che facciamo a 18 anni si diventa cittadini italiani financo con la fedina penale sporca chiaro come racconta oggi bene il Corriere della Sera e quindi prima ci si diventa per grandi meriti per un grande sportivo per un grande sciatore per un grande calciatore per un grande eroe come questo piccolo bambino che ha salvato i suoi pari e questa cosa è talmente evidente che oggi il PD cioè Zingaretti viene sollecitato da Del Rio cioè il fallimentare ministro del precedente governo Renzi per riporre lo Iussoli come questione fondamentale ce lo ricorda Repubblica e allora voi capite bene come in realtà questi della sinistra non hanno esattamente capito quello che sta avvenendo in questo paese non è razzismo non è irrazionale timore del diverso da sé ma è non capire che per conquistare conquistare la cittadinanza italiana bisogna in Italia in maniera molto semplice arrivare a 18 anni non più ne più nemmeno e poi la si ottiene e questo forse può essere un piccolo antidoto verso quelle società multicaltorali che come abbiamo visto in Francia in Belgio e nei paesi che più ne hanno sofferto non ha portato altro se non a grandi problemi non solo di micro criminalità ma anche di terrorismo ma questo non lo vogliono capire Telese fa un pezzo stupendo oggi sulla verità in cui dice ma poi perché stiamo parlando solo di questo ragazzo Rami che sicuramente sarà un eroe dovrà beccarsi la cittadinanza italiana la stampa buonista e lo dice Telese un uomo sicuramente non può essere considerato uno pseudo salviniano dice la stampa di sinistra si è dimenticata della bidella italiana di Riccardo un altro bambino italiano che ha fatto tutto quello che ha fatto per poter salvare i suoi coetanei e la bidella italiana che è l'unica peraltro che si è presa fuoco sulla schiena e oltre i carabinieri di cui invece in realtà un po' si è parlato fantastico oggi Telese sulla verità la buongiorno e o buonanotte oggi secondo Verdera mi direbbe ma che ci stiamo a fare qua in questo governo io lo so che ci sta a fare la buongiorno sente odore di governo tipo a 50 miglia una specie di segugio che non sbaglia un colpo quindi in realtà è interessante ascoltare quelle che sono le dischezioni che dice la buongiorno perché è una che pensa solo alla poltroncina quindi se dice queste frasi vuol dire che questa sta traballando su Roma le cose sono diventate ormai ridicole sono 25 secondo quanto ha calcolato il Corriere della Sera le persone della giunta della Raggi che se ne sono andate 25 allora come si fa a governare in tre anni cambiando 25 persone chiave l'assessore a bilancio il tuo segretario particolare l'assessore all'urbanistica insomma mi sembra una roba incredibile eppure la Raggi sta lì e ancora ce la stiamo menando che loro sono bravi perché quando beccano un corrotto loro lo mandano via se questo fosse stato possibile anche per gli altri partiti ovviamente non avremmo avuto tangentopoli e quegli scandali sistemici appunto per i quali diventava un sistema negli altri partiti questa giunta invece è una doppia colpa non saper fare nulla se non pulire le strade quando arriva il premier il presidente cinese oltre a non saper fare nulla essere pure in gran parte indagata o corrotta come preferite secondo i vostri abitudini giustizialiste beh oggi l'ultima storia raccoglie Sallusti dell'avvocato della modella Fadil per quale Repubblica ci ha spiegato insieme al fatto che la colpa di Berlusconi degli amici di Berlusconi della mafia dei gigli come dice come dice come si chiama travaglio russi le spie russe per avvelenarla insomma questa non ha avuto nessun avvelenamento non c'è stata nessuna traccia di attività e l'avvocato sapete che cosa fa l'avvocato di Fadil molla la causa perché dice alla famiglia ragazzi ma cosa continuiamo a fare sta bagianata questa purtroppo è morta di case neutrali e voi continuate a far sì che io voglia portare avanti una vicenda che non ha nessun senso il senso ce l'ha avuta soltanto per motivi politici perché questa ragazza si è trovata tre volte ad arcole questa ragazza è stata sentita come teste nel 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 processo rubiterra e questa ragazza dello stesso processo rubiterra i magistrati non l'hanno tenuta così fondamentale a differenza di quello che scrivono i giornali tant'è che non le hanno permesso di costituirsi parte civile questa è la realtà sul sito nicolaporro punto it parleremo ancora della cittadinanza dello giussoli parleremo con gervasoni dei cento anni della nascita del fascismo e tante altre notizie sul sito dove spero voi andiate prestissimo ciao